ciao ragazzi della spesa dell'orto ci stiamo avvicinando all'estate quando siete tentati nelle agricole che vedete quei bancali pieni di piantine pronte da trapiantare aspettate un attimo c'è questa simpatica sigla qui f1 ma che significa semplicemente vuol dire che il seme che ha generato questa piantina viene da un incrocio f1 è un ibrido che attenzione non è sbagliato è perché in natura avvengono costantemente incroci anche tra specie diverse e quindi la domanda perché questo incrocio la risposta è per vendere di più perché questo prodotto deve avere determinate caratteristiche adesso andiamo a vederle prendiamo ad esempio il pomodoro il classicone dell'estate deve essere bello deve essere perfetto deve avere la buccia tutta bella lucida un po come questi qua che ho raccolto qualche immagine anche anni fa ma direttamente dall'orto ma non erano f1 e la sua buccia può essere gialla arancione viola questo per solleticare qualche chef estroso ma lo si fa anche perché deve maturare tutto insieme attenzione questa è una cosa molto importante cioè nelle grandi produzioni è conveniente che una cosa maturi tutta assieme perché si passa una volta per la raccolta in orto è esattamente il contrario se no ci dovremmo trovare a mangiare 800 pomodori in una settimana e invece è giusto che maturino ognuno col suo tempo così abbiamo anche il tempo di raccoglierne piano piano ma quindi perché f1 perché è una pianta che ha raggiunto determinate condizioni che sono state testate in mesi o anche anni incroci praticamente tra diverse piantine di pomodoro in questo caso ma vale per tutte per tutta la frutta e la verdura fino ad arrivare all'aspetto desiderato appunto quello vendibile voi direte e allora c'è un grande però le multinazionali fanno questo f1 perché se io volessi togliere il seme e ripartire dallo stesso c'è un video che vi metto qua sopra come estrarre i semi in realtà questa cosa non ha sempre successo anzi è spesso penalizzante vediamo perché perché il prossimo anno quindi la piantina che nasce dal seme f1 diventerà f2 dice vabbè adesso che ci facciamo tutte queste f praticamente sarà meno produttiva e non avrà soprattutto le stesse caratteristiche se non addirittura alterate non si sa in quale maniera noi comunque vi testiamo tutto prima di dire certe cose quindi come vedete qua in serra sto provando a mia volta un f2 perché figlia di una piantina presa l'anno scorso nelle agricole dove ho tolto il seme e provato a rimetterle l'80 per cento non viene intanto non germina questa prima notizia e il 20 per cento che sta germinando vedremo com'è adesso vengono su sono queste qua vedremo alla fine dell'estate che risultati avremo ottenuto con questo cosa vogliamo dire non vogliamo dire di smettere di comprare le agricole per carità anche loro devono sopravvivere come tutti però possiamo in un certo senso non arricchire costantemente i portafogli delle grosse multinazionali che appunto producono questi pomodori per carità sono bellissimi sono con queste caratteristiche quindi la polpa più spessa qualcuno vuoto addirittura ho scritto pronto in insalata se ritrovo il foglietto ve lo faccio vedere non è un vero pomodoro che nasce da diciamo anni e anni di di sementi provati soprattutto dai nostri nonni è un ibrido quindi andate a cercare le associazioni siamo pieni in italia uno è il cercatore di semi con la quale ho preso tante varietà di peperoni pomodoro vi farò vedere quest'estate in orto andiamo a trovare le agricole biologiche andiamo a trovare chi è che parte dal seme andiamo a trovare coltivatori diretti che innescano questo processo anno dopo anno la qualità sarà migliore costa molto meno di un f1 attenzione il risparmio è notevole il tuo palato ringrazia e anche la tua salute ciao